il nostro costruzione chiamava Genesis e approfitta dell'offerta tutte le polvrone Genesis sono personalizzabili con messa in piedi e assistita ooooh 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 chi sei re allora ehi allora ehi allora non sei bello sì sono bello nonna oggi ha optato per un pranzo leggerissimo vero? molto fresco molto estivo ha fatto i cannelloni le patate e l'oca eh? che dieta è questa estiva? si ooooh o no? è estiva? che cazzo ne so io non ho fatto niente guardatela eccola beh giustamente l'estate non è fresco se sta bene insomma cannelloni e oca arrosto che c***o è il problema? e mi vuole ingozzare io non la voglio ma che mi piace? eh ne piace cioè veramente tu lo stai a ingozzare eh davvero se non gli piace fa lo cocco ma la compro la perria ah quindi da lui non gli piace lo che arrosto però la mangia per è un favoritismo che fa capito? lui lo che arrosto no 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 no